devi fare qualcosa io e chi è Totti scusa io e allora devi fare qualcosa te no? tu mi ti assumi a me eh eh senti che ti fa qualcosa esatto e io ho fatto tutta sta roba fai qualcosina pure te insomma cioè e che dovrei fare? eh devi tu se guardi questa che te sembra no è un po' diverso al fisico? eh un po' troppo magro devi ingressare? eh no te te devi dimagrire ah io dimagrire? eh fai una dieta fai tarsi la mattina te fai due noci, uno yogurt, mezzo mango poi a pranzo te fai un piattino di pasta integrale, una verdura nel pomeriggio te mangi l'altra metà di mango e a cena te fai un'insalatona e se proprio c'è voglia dopo cena te mangi se vuoi te puoi mangiare un mango fai artitologo? oh cosa che a guardarla bene sta foto? siamo due gocci d'acqua sai per me va bene così ah si eh? si ciao grazie